Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che sul mio profilo Instagram, in questa casellina che si chiama eventi, troverete tutti i miei prossimi eventi, soprattutto di marzo. Eccola qua, pigiando proprio qui, però troverete tutti i miei eventi, che vi ripeto sono uno a Cosenza il 10 marzo, poi il 16 marzo ad Arco e il 24 marzo a Roma, tutto qui. Vai papà, la prima volta al sushi, oggi per il suo compleanno, dai, dai. Vediamo, pure a me bevamo. Bravo, attenzione. Dai, mangialo adesso tutto in un boccone. No, sì. Grazie a tutti. Saba, il prossimo compleanno è il tuo. Aiuto. Aiuto. No. No. Si. No. 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 Grazie.